Non aveva mai fatto un'anestesia, né era intervenuto in un'operazione. Come studente si limitava a lavori amministrativi, compilare statistiche, riempire schede e aiutare nelle cure, nelle sotturazioni e nelle incombenze di minore importanza. Era più spaventato di Amanda stessa, ma assunse l'atteggiamento prepotente e distaccato che aveva visto nei medici affinché credesse che la faccenda era roba di tutti i giorni. Vole evitarle l'imbarazzo di spogliarsi ed evitare a se stesso l'inquietudine di vederla, sicché l'aiutò a stendersi sul letto vestita. Mentre si lavava le mani e indicava a Nicolás di farlo pure lui, cercava di distrarla con l'aneddoto del fantasma spagnolo che era apparso a Clara durante una riunione del venerdì e aveva raccontato che c'era un tesoro nascosto nelle fondamenta della casa. E le parlò della sua famiglia, un mucchio di pazzi stravaganti da varie generazioni, di cui perfino gli spettri si prendevano gioco. Ma Amanda non lo ascoltava, era pallida come un cencio e le battevano i denti. «A cosa servono queste cinghie? Non voglio che mi leghi!» si spaventò. «Non sto per legarti, Nicolás ti somminestrerà all'etere. Respira, respira tranquillamente, non ti spaventare, e quando ti sveglierai avremo finito!» Sorrise Jaime con gli occhi sopra la maschera. Nicolás avvicinò alla giovane la maschera dell'anestesia e l'ultima cosa che lei vide, prima di sprofondare nell'oscurità, fu Jaime che la guardava con amore, ma credete di star sognando. Nicolás le tolse gli indumenti e la legò a letto, consapevole che era peggio di una violenza, mentre suo fratello aspettava con le mani inguantate, cercando di non vedere in lei la donna che occupava tutti i suoi pensieri, bensì solo un corpo come tanti, che passavano quotidianamente su quello stesso letto in un grido di dolore. Cominciò a lavorare con lentezza e attenzione, ripetendosi quello che doveva fare, masticando il testo del libro che aveva imparato a memoria, col sudore che gli cadeva sugli occhi, attento al respiro della ragazza, al colore della sua pelle, al ritmo del suo cuore per indicare a suo fratello che le desse più etere ogni volta che gemeva, pregando perché non ci fosse alcuna complicazione, mentre si incitava nel più intimo senza smettere in tutto quel tempo di maledire suo fratello col pensiero perché se quel figlio fosse stato suo e non di Nicolás, sarebbe nato sano e integro, invece di andarsene in pezzi per gli scarichi di quell'ambulatorio, e lui l'avrebbe ninnato e protetto, invece di tirarlo fuori dal suo nido a cucchiaiate. 25 minuti dopo aveva finito e diede ordine a Nicolás di aiutarlo a sistemarla fin tanto che le durava l'effetto dell'etere, ma vide suo fratello che vacillava appoggiato alla parete in preda a violenti conati. Idiota! ruggì Jaime. Va al cesso! Che dopo aver vomitato la colpa! Aspetta in sala d'attesa perché ne abbiamo ancora per un pezzo! Nicolás uscì in cespicando e Jaime si tolse i guanti e la maschera e cominciò a sciogliere le cinghie ad Amanda, a infilarle delicatamente gli indumenti, a nascondere le prove insanguinate della sua opera e a sottrarre alla sua vista gli strumenti di tortura. Poi la sollevò in braccio, assaporando quell'istante in cui poteva stringerla al petto e la posò su un letto cui aveva messo lenzuola pulite che era più di quello che avevano le donne che andavano all'ambulatorio a chiedere aiuto. La coprì e si sedette al suo fianco. Per la prima volta nella sua vita poteva osservarla a suo agio. Era più piccola e dolce di quanto sembrava allorché andava in giro col suo travestimento da pitonessa e la sua sonagliera di perline e come sempre aveva sospettato, nel suo corpo sottile. Le ossa erano appena un accenno tra le piccole colline e le lisce pianure della sua femminilità. Senza la sua capigliatura eccessiva e i suoi occhi da sfinge sembrava avere quindici anni. La sua vulnerabilità sembrò a Jaime più desiderabile di tutto quello che prima in lei l'aveva sedotto. Si sentiva due volte più grande e pesante di lei e mille volte più forte, ma si sentiva sconfitto in anticipo dalla tenerezza e dall'ansia di proteggerla. Maledisse il suo invincibile sentimentalismo e cercò di vederla come l'amante di suo fratello alla quale aveva finito di procurare un aborto, ma subito capì che era un tentativo inutile e si abbandonò al piacere e alla sofferenza di amarla. Accarezzò le sue mani trasparenti, le sue dita sottili, la curva delle sue orecchie percorse il suo collo sentendo il rumore impercettibile della vita nelle sue vene. Avvicinò la bocca alle sue labbra e aspirò con avidità l'odore dell'anestesia, ma non osò toccarle. Amanda si riprese lentamente dal sonno. Dapprima sentì freddo e poi la scossero i conati. Jaime la consolò parlandole con lo stesso linguaggio segreto che riservava agli animali e ai bambini piccoli dell'ospedale dei poveri finché non si fu calmata. Lei cominciò a piangere e lui continuò ad accarezzarla e rimasero in silenzio. Lei in bilico tra la sonnolenza, la nausea, l'angoscia e il dolore che cominciava ad attaneagliarle il ventre e lui desiderando che quella notte non terminasse mai. «Credi che potrò avere altri figli?» chiese lei infine. «Soppongo di sì», rispose lui, «ma cercagli un padre responsabile». Sorrisero, entrambi sollevati. Amanda cercò nel viso bruno di Jaime, chino accanto al suo, qualche somiglianza con quello di Nicolás, ma non riuscì a trovarla. Per la prima volta nella sua esistenza di nomade si sentì protetta e sicura. Sospirò, contenta, e dimenticò il lerciume che la circondava, le pareti screpolate, i freddi armadi metallici, gli spaventosi strumenti, l'odore di disinfettante e anche quel sordo dolore che si era installato nelle sue viscere. «Per favore, sdraiati vicino a me e abbracciami», disse. lui si distese timidamente nello stretto letto circondandola con le sue braccia. Cercava di stare fermo per non darle fastidio e non cadere, aveva la tenerezza goffa di chi non è mai stato amato e deve improvvisare. Amanda assero agli occhi e sorrise. Stettero così, respirando, vicini, in completa calma come due fratelli, finché non cominciò a far chiaro e la luce che entrava dalla finestra fu più forte di quella della lampada. Allora Jaime l'aiutò ad alzarsi in piedi, le mise in cappotto e la condusse a braccetto sino all'anticamera dove Nicolás si era addormentato su una seggiola. «Sveglia, la portiamo a casa perché se ne occupi nostra madre, è meglio non lasciarla sola per qualche giorno», disse Jaime. «Sapevo che potevamo contare su di te, fratello». Ringraziò Nicolás emozionato. «Non l'ho fatto per te, disgraziato, ma per lei!» grugnì Jaime voltandogli le spalle. Nella grande casa dell'angolo Clara li accolse senza fare domande o forse le aveva fatte direttamente alle carte o agli spiriti. Dovettero svegliarla perché stava albeggiando e nessuno si era ancora alzato. «Mamma, aiuti Amanda», chiese Jaime con la sicurezza che gli veniva dalla lunga complicità che avevano in queste cose. «È malata e si fermerà qui per qualche giorno». «È Miguelito?» chiese Amanda. «Andrò a prenderlo io», disse Nicolás e uscì. Prepararono una delle stanze degli ospiti e Amanda si mise a letto. Jaime le misurò la febbre e disse che doveva riposare. Fece per andarsene, ma si fermò sulla soglia della porta, indeciso. In quel momento tornò Clara reggendo un vassoio col caffè per tutti e tre. «Immagino che le dobbiamo una spiegazione, mamma», mormorò Jaime. «No, figlio», rispose Clara allegramente. «Se è un peccato preferisco che non me lo raccontiate. Approfittiamone per far riposare un po' Amanda che ne ha molto bisogno». Uscì, seguita da suo figlio e Jaime vide sua madre avanzare lungo il corridoio scalza, con i capelli sciolti sulle spalle e avvolta nella sua vestaglia bianca e notò che non era alta e forte come l'aveva vista nella sua infanzia. Allungò la mano e gliela posò sulla spalla. Lei voltò la testa, sorrise e Jaime la abbracciò con slancio stringendola contro il suo petto graffiandole la fronte col mento sul quale la sua barba impossibile reglamava ormai un'altra rasatura. Era la prima volta che le faceva una carezza spontanea da quando era un bambino attaccato per bisogno i suoi seni e Clara si stupì nel constatare quanto grande era suo figlio con un torace da sollevatore di pesi e due braccia come martelli che la stringevano forte in un gesto timoroso. Emozionata e felice si chiese come fosse possibile che quello maccione peloso con la forza di un orso e il candore di una novizia avesse potuto stare una volta nella sua pancia e per giunta in compagnia di un altro. Nei giorni successivi Amanda ebbe la febbre Jaime spaventato la sorvegliava di continuo e le somministrava sul famidici Clara la curava non mancò di notare che Nicolás chiedeva di lei discretamente ma non faceva alcun tentativo per andarla a trovare mentre Jaime si chiudeva nella stanza con lei le prestava i suoi libri più cari e camminava come trassognato dicendo incoerenze e girando per la casa come non aveva mai fatto al punto che il giovedì dimenticò la riunione dei socialisti e fu così che Amanda divenne parte della famiglia per un certo tempo e che Miguelito per una circostanza speciale fu presente nascosto nell'armadio il giorno in cui nacque Alba in casa dei Trueba e non dimenticò mai più il grandioso e terribile spettacolo della creatura che veniva al mondo avvolta nei suoi muchi insanguinati tra le grida della madre e la confusione delle donne che le si affannavano intorno intanto Esteban Trueba era partito per il Nord America stanco del male alle ossa e di quella segreta malattia che lui solo percepiva aveva preso la decisione di farsi visitare da medici stranieri perché era giunto alla conclusione che i dottori latini erano tutti dei ciarlatani più vicini allo stregone aborigeno che alla scienza il suo rimpicciolimento era così impercettibile così lento e dissimulato che nessuno se n'era ancora accorto doveva comprare le scarpe di un numero in meno doveva farsi accorciare i pantaloni farsi fare balze alle maniche delle camice un giorno si era messo il cappello estivo che non aveva usato per tutta l'estate e aveva visto che gli copriva completamente le orecchie sicché dedusse terrorizzato che se gli si stava restringendo la misura del cervello probabilmente gli si restringevano anche le idee i medici nordamericani gli misurarono il corpo lo pesarono pezzo per pezzo gli fecero domande in inglese gli iniettarono del liquido con un ago glielo tolsero con un altro gli fecero delle lastre lo rivoltarono come un guanto e gli misero perfino una lampada una lampada nell'ano infine conclusero che erano solo idee sue che non pensasse di star rimpicciolendo che aveva sempre avuto le stesse dimensioni e che aveva sicuramente sognato di essere stato una volta alto un metro e ottanta e di avere calzato il 42 Esteban Trueba finì per perdere la pazienza e tornò in patria disposto a non badare al problema della statura dato che tutti i grandi uomini politici della storia erano stati piccoli da Napoleone fino a Hitler quando tornò a casa sua vide Miguel che giocava nel giardino e Amanda più magra e con le occhiaie spoglia delle sue collane e dei suoi braccialetti seduta con Jaime sulla terrazza non fece domande perché era abituato a vedere gente strana alla famiglia vivere sotto il suo stesso tetto 8 il conte quel periodo sarebbe rimasto immerso nella confusione dei ricordi antichi e scoloriti dal tempo se non fosse stato per le lettere che Clara e Blanca si scambiarono tra di loro quella nutrita corrispondenza preservò gli eventi salvandoli dalla nebulosa dei fatti improbabili dalla prima lettera che ricevette da sua figlia Clara poteva indovinare che la separazione da Blanca non sarebbe durata a lungo senza dirle niente e sistemò una delle due più assolate spaziose stanze della casa per aspettarla vi mise la culla di bronzo nella quale aveva allevato i suoi tre figli Blanca non riuscì mai a spiegare le ragioni per cui aveva accettato di sposarsi perché nemmeno lei stessa le sapeva analizzando il passato quando era ormai una donna matura giunse alla conclusione che la causa principale era stata la paura che aveva di suo padre da quando era in fascia aveva conosciuto la forza irrazionale della sua ira ed era abituata a obbedirgli la sua gravidanza e la notizia che Pedro III era morto avevano finito per deciderla e tuttavia si era proposta fin dal momento che aveva accettato il legame con Jean de Satigny che non avrebbe mai consumato il matrimonio avrebbe inventato ogni sorta di scuse per rinviare l'unione all'inizio col pretesto dei malesseri propri del suo stato e poi ne avrebbe trovati altri sicura che sarebbe stato molto più facile maneggiare un marito come il conte che calzava scarpe di capretto si metteva smalto sulle unghie ed era disposto a sposarsi con una donna messa incinta da un altro piuttosto che opporsi a un padre come Esteban Trueba tra i due mali aveva scelto quello che era parso minore aveva intuito che tra suo padre e il conte c'era un'intesa commerciale nella quale lei non aveva niente a che vedere in cambio di un cognome per sua nipote Trueba aveva dato a Jean de Satigny una dote pingue e la promessa che un giorno avrebbe ricevuto un'eredità Blanca si era prestata al patto ma non era disposta a consegnare al marito né il suo amore né la sua intimità perché continuava ad amare Pedro III Garfia più per forza di abitudine che per la speranza di rivederlo Blanca e il suo novello marito passarono la prima notte di nozze nella camera matrimoniale del migliore albergo della capitale che Trueba aveva fatto riempire di fiori per farsi perdonare da sua figlia la sequela di violenze che le aveva inflitto negli ultimi mesi con sua sorpresa Blanca non aveva avuto bisogno di simulare un mal di testa perché quando erano rimasti soli Jean aveva abbandonato il ruolo di fidanzato che le dava piccoli baci sul collo e sceglieva i migliori gamberi da metterle in bocca e sembrava aver dimenticato completamente i suoi modi da primatore del cinema muto per trasformarsi nel fratello che era stato per lei durante le passeggiate in campagna quando andavano a fare merenda sull'erba con una macchina fotografica e i libri in francese Jean era entrato nel bagno dove aveva indugiato così tanto che quando era riapparso nella camera Blanca era mezzo addormentata aveva creduto di sognare alla vista di suo marito che si era cambiato l'abito del matrimonio con un pigiama di seta nera e una giacca da camera di velluto pompeiano si era messo una rete per tener ferma l'impeccabile ondulazione della sua pettinatura e profumava intensamente di colonie inglese sembrava non avere alcuna impazienza amatoria si era seduto accanto a lei sul letto e le aveva accarezzato la guancia con lo stesso gesto un po' scherzoso che aveva notato in altre occasioni e poi aveva cominciato a spiegare nel suo affettato spagnolo senza la R di non avere alcuna propensione speciale per il matrimonio dato che era un uomo innamorato delle arti delle lettere e della curiosità scientifica e che pertanto non aveva intenzione di importunarla con richieste maritali sicché avrebbero potuto vivere insieme ma non avvinghiati in perfetta armonia e buona educazione sollevata Blanca gli aveva gettato le braccia al collo e l'aveva baciato su entrambe le guance grazie jean aveva esclamato non c'è di che aveva replicato lui cortesemente si erano adagiati nel gran letto in falso stile impero commentando i particolari della festa e facendo piani per la loro vita futura non ti interessa sapere chi è il padre di mio figlio aveva domandato Blanca lo sono io aveva risposto jean baciandola sulla fronte e si erano addormentati ognuno dalla sua parte voltandosi le spalle alle cinque del mattino Blanca si era svegliata con lo stomaco sconvolto per via dell'odore dolciastro dei fiori con cui Esteban Trueb aveva ornato la camera nuziale jean era rimasto sveglio per il resto della notte a leggere la filosofia nel salotto del marchese de Sade mentre Blanca sospirava in sogno che era stupendo essere sposata con un intellettuale il giorno dopo jean era andato in banca a cambiare un assegno di suo suocero e aveva trascorso quasi tutta la giornata girando nei negozi del centro per comprarsi il corredo da sposo che considerava consono la sua nuova posizione economica intanto Blanca stufa di aspettarlo nella hall dell'albergo aveva deciso di andare a trovare sua madre si era messa il suo miglior cappellino da mattina ed era andata con un'auto pubblica alla grande casa dell'angolo dove il resto della sua famiglia stava pranzando in silenzio ancora arrabbiati e stanchi per i sussulti delle nozze e la risacca degli ultimi litigi vedendola entrare in sala da pranzo suo padre aveva cacciato un grido di orrore che ci fai qui figlia aveva rugito niente sono venuta a trovarvi aveva mormorato Blanca atterrita lei è pazza non si rende conto che se la gente la vede dirà che suo marito l'ha rimandata indietro in piena luna di miele diranno che non era vergine il fatto è che non lo ero papà Esteban era stato sul punto di appiopparlo uno schiaffo ma Jaime gli si era messo davanti con tanta decisione che si era limitato a insultarla per la sua stupidità Clara imperturbabile aveva fatto accomodare Blanca su una seggiola e le aveva servito un piatto di pesce freddo con salsa di capperi mentre Esteban seguitava a gridare e Nicolás andava in cerca di un'auto per restituirla a suo marito loro due si erano messi a bisbigliare come i vecchi tempi quella stessa sera Blanca e Jean avevano preso il treno per il porto lì si erano imbarcati su un transatlantico inglese lui indossava un paio di pantaloni di lino bianco e una giacca blu dal taglio alla marinara che si intonava alla perfezione con la gonna blu e la giacca bianca del tagliore di sua moglie quattro giorni dopo la nave li aveva depositati nella più dimenticata provincia del nord dove i loro eleganti abiti da viaggio e le loro valigie di coccodrillo erano passate inosservate nell'asfissiante calore secco dell'ora della siesta Jean de Satigny aveva sistemato provvisoriamente sua moglie in un albergo e si era assunto l'incombenza di cercare un alloggio degno delle sue nuove entrate ventiquattro ore dopo la piccola società provinciale era conoscenza di erse si arricchita di un autentico conte ciò rese le cose più facili a Jean aveva potuto affittare un'antica magione appartenuta a una delle grandi fortune dei tempi del San Nitro prima che fosse scoperto il sostituto sintetico che aveva mandato tutta la regione in malora la casa era un po' triste e abbandonata come tutte le altre da quelle parti aveva bisogno di qualche riparazione ma conservava intatta la sua dignità di un tempo e il suo fascino di fine secolo il conte l'aveva decorata a suo gusto con una raffinatezza equivoca e decadente che aveva stupito Blanca abituata alla vita di campagna e alla sobrietà classica di suo padre Jean aveva disposto dei sospetti e grandi vasi di porcellana cinese che al posto dei fiori contenevano piume di struzzo colorate tendaggi di damasco con panneggi e nappine grossi cuscini con frange e pompon mobili di tutti gli stili mensole dorate paraventi e certe incredibili lampade a stelo sorrette da statue di ceramica che riproducevano neri abissini in grandezza naturale seminudi ma con babucce e turbanti la casa stava sempre con le tende tirate in una tenue penombra che riusciva a trattenere la luce implacabile del deserto negli angoli Jean aveva messo brucia incenso orientali in cui faceva ardere erbe profumate e bastoncini di incenso che all'inizio davano il volta stomaco a Blanca ma ai quali si era presto abituata aveva assunto al suo servizio diversi indigeni oltre a una grassona monumentale che si occupava della cucina cui aveva insegnato a preparare le salse saporite che gli piacevano e una cameriera a zoppa e analfabeta che avrebbe badato a Blanca a tutti aveva fatto indossare vistose divise da operetta ma non era riuscito a far tenere loro le scarpe perché erano abituati a girare scalzi e non le sopportavano Blanca si sentiva a disagio in quella casa e non aveva fiducia negli indigeni impassibili che la servivano svogliatamente e sembravano prendersi gioco di lei alle sue spalle le giravano intorno come spiriti scivolando senza rumore per le stanze quasi sempre senza far niente e annoiati non rispondevano quando lei parlava come se non capissero la lingua e tra di loro parlavano in sussurri o in dialetto dell'alto piano ogni volta che Blanca riferiva a suo marito le cose strane che notava nei servitori lui diceva che erano abitudini indigene che non bisognava farci caso la stessa cosa aveva risposto Clara per lettera quando lei aveva raccontato che un giorno aveva visto uno di loro arrampicato su un paio di scarpe antiche con tacco ritorto e fiocco di velluto dove i grandi piedi callosi dell'uomo stavano rattrappiti il calore del deserto la gravidanza e il tuo inconfessato desiderio di vivere come una contessa secondo gli ignaggio di tuo marito ti fanno avere delle visioni figliola le aveva scritto per scherzo Clara e aveva aggiunto che il miglior rimedio contro le scarpe Luigi 15 erano una doccia fredda e un infuso di camomilla un'altra volta Blanca aveva trovato nel suo piatto una lucertolina morta che per poco non si era messa in bocca non appena si era rimessa dallo spavento e aveva potuto cacciar fuori la voce aveva chiamato a urla la cuoca e le aveva indicato il piatto col dito tremante la cuoca si era avvicinata facendo dondolare la sua immensità di grasso e le sue trecce nere e aveva preso il piatto senza fare commenti ma mentre si voltava Blanca aveva creduto di cogliere un ghigno di complicità tra suo marito e la donna quella notte era rimasta sveglia fino a molto tardi pensando a quanto aveva visto finché all'alba non era giunta la conclusione che se l'era immaginato sua madre aveva ragione il caldo e la gravidanza le stavano ingarbugliando le idee le stanze più discoste della casa erano state destinate alla mania di Jean per la fotografia aveva installato le sue lampade i suoi treppiedi le sue macchine e aveva pregato Blanca di non entrare mai senza il suo permesso in quello che aveva battezzato il laboratorio perché come aveva spiegato alla luce naturale le lastre si potevano velare aveva messo una chiave alla porta e la teneva sempre attaccata a una catena d'oro cautela del tutto inutile perché sua moglie non nutriva praticamente alcun interesse per ciò che la circondava e ancora meno per l'arte della fotografia che si poteva è che si poteva che si poteva che si poteva